Assessore Mungo, oggi l'amministrazione ha consegnato questo defibrillatore al palazzetto dello sport di Corvo, sarà a disposizione di tutte le società, è un segno importante per la prevenzione per i nostri sportivi? Assolutamente sì, continua quello che è il percorso di cardioprotezione delle strutture sportive, abbiamo circa tre anni fa, quindi in tempi non sospetti quando ancora il Decreto Balduzzi non era in vigore, anzi ci tengo a sottolineare che a tutt'oggi non è ancora in vigore perché il governo ha di nuovo, il ministero ha di nuovo prorogato la sua applicazione obbligatoria presso le società sportive affinché si dotino di defibrillatore, per noi come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto mettere in cardioprotezione il pala Corvo. Ci tengo a sottolineare che questa cosa è stata possibile, siamo riusciti a realizzarla grazie alla sinergia con le società sportive, in particolare la CCP Basket che ha comprato non il defibrillatore che dà l'amministrazione comunale ma bensì la Teca che lo custodisce. Questo significa una partecipazione, una sinergia attiva, di cittadinanza attiva con le società sportive. Il defibrillatore qui nel pala Corvo sarà a servizio di tutte le società sportive che lo frequentano, che lo utilizzano, il pala Corvo, ma chiaramente ogni società è già in possesso di quelli che sono i requisiti di BLSD all'interno di ogni ASD e società sportiva stessa. Avranno loro il loro personale, quindi i loro abilitati. Un grazie veramente al Guido Scarcello, al presidente della CCP Basket, che ha colto al volo quella che era la necessità dell'amministrazione di comprare questa teca e posizionarla. E noi oggi doniamo questo defibrillatore al pala Corvo affinché anche il palazzetto sia cardioprotetto. Grazie. 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 Grazie.